Stiamo vivendo una fase in cui le aziende si stanno trasformando velocemente dal punto di vista sia scientifico-tecnologico sia dei criteri organizzativi. Tutto ciò ha un impatto non solo rispetto alla loro competitività ma anche rispetto all'ambiente, al green. Oggi i criteri di competitività in realtà portano ad un maggiore rispetto dell'ambiente. Bisogna quindi cambiare i parametri culturali con cui finora abbiamo valutato il rapporto tra attività produttive e la natura che ci circonda. Ed è giusto quindi approfondire con i ragazzi, con gli studenti le nuove conoscenze, competenze e abilità che queste trasformazioni necessitano.